Per il momento non ci faccio caso, preferisco più che altro fare la prestazione e riuscire ad ottenere più punti la domenica, il sabato, quando giochiamo. È normale che noi siamo attaccanti, il nostro pane è quello, fare gol, però per il momento va bene così. Non ho più 20 anni, ho 30 anni, quindi ho giocato a due, ho giocato a tre, ho giocato da solo, quindi per me il modulo è indifferente. Quello che dobbiamo fare è correre, rincorrere gli avversari e poi quando abbiamo palla cercare di giocare. Dobbiamo vivere questa situazione allenandoci sempre al 100%, fare quello che ci chiede di fare il mister e mettersi a disposizione della squadra. Questo penso che sia il segreto, alla fine il lavoro poi alla fine paga. Pordenone sicuramente sarà una gara ad alta intensità, già da oggi prepariamo questa partita importante per noi, un po' con la mare in bocca perché comunque domenica potevamo raccogliere, sabato potevamo raccogliere un risultato pieno. Siamo stati un po' sfortunati, abbiamo preso una travesta del primo tempo, due nel secondo tempo, un paio di occasioni create verso la fine. Dopo un inizio un po' così e così perché dopo un minuto e mezzo non è facile ribaltare il risultato. Però questa è una cosa positiva, ripartiamo da quello perché poi dopo il gol e levando un'altra cinque minuti ho visto una squadra che aveva voglia di lottare, di rincorrere l'avversario e di provare a vincere. Poi non ci siamo riusciti però.